va beh c'entra magari veramente poco con questo video non so neanche in che video andrà però praticamente questa sera sono diventato il gestore ad interim di questo campeggio come vedi alle mie spalle è venuto giù un albero anche bello grosso e si sta appoggiando sui cavi dell'alta tensione che sono quelli che vanno alla cabina e che danno elettricità al campeggio quindi se si spezzano quelli soccarsi per tutti ho chiamato i vigili hanno chiamato anche i vigili urbani che stanno per arrivare per sistemare un po questo disastro benvenuto bentornato sul mio canale ma scusami ma tu chi sei per chi non mi conosce mi chiamo armandio da dieci anni insieme a mia moglie viviamo su questo mezzo che è un po diverso da come l'abbiamo comprato ma te ne parlo in questo video poi quest'anno quest'estate ci siamo comprati questa roulotte con casettina annessa al camping la martina che tra l'altro ieri sera successo un casino è venuto giù una quercia dovuto chiamare i vigili del fuoco sono arrivati anche i carabinieri sono riusciti a segare e disboscare tutto praticamente il problema è che questo albero grosso questa quercia che difficilmente cade tra l'altro non è che proprio a cosa è caduta una quercia è caduta sui cavi dell'alta corrente che portano la corrente al campeggio per fortuna nessun danno tutti bene grazie mille ai vigili del fuoco che hanno fatto questo lavorone ieri sera sono sceso anche con sei se non mi sbaglio nescaffè caldi per dargli una mano insomma a fare questo questo lavoro quindi questo è il mio mezzo ed è quello che ti voglio parlare in questo video una calda e bellissima giornata di ottobre siamo al 25 di ottobre oggi ti voglio dire tutte le novità dei lavori che ho fatto su Morkenstein cioè in teoria si chiama Mork è poi diventato Morkenstein e adesso non più adesso non so più se è la versione 3.0 4.0 5.0 comunque questo è il nostro mezzo ti vado a far vedere le modifiche a livello meccanico che sono state fatte e anche delle modifiche che mi sono fatto da me e me pensavo di portarla a un camper service poi ho detto no lasciamo perdere sono abbastanza bravo diciamo che me la cavo con quella che è un po di manualità e quindi ho fatto dei piccoli upgrade all'interno del mezzo andiamo a vederli il primo grande upgrade che è stato fatto a livello meccanico chiaramente il cambio del motore per chi ha seguito magari diversi video precedenti sa che ho messo sotto il cofano di questo bestione il classico motore volkswagen 2 5 5 cilindri tdi tanta roba 280 mila chilometri questo motore ma con testata e anche corpo motore retificati con anche un cambio di un pistone quindi non voglio dire praticamente nuovo però diciamo che ci avviciniamo quali sono le differenze tra il primissimo motore adesso ti spiego un po la storia di questo mezzo era il 2012 quando sono partito dalla bulgaria ho venduto tutti i miei possedimenti libri vinili armadi vestiti ho messo tutto quello che mi serviva in uno zaino della montagna e ho preso un biglietto per burno che era all'epoca dove viveva quella che poi sarebbe diventata mia moglie mel una volta arrivato lì ho finito quei risparmi quei soldi che avevo raccimolato vendendo le mie cose e gli sono detto beh io ho fatto quattro anni di liceo artistico quattro anni di accademia di belle arti a milano so disegnare preso il gessetto mi sono messo a fare il madonnaro che poi in realtà non disegnavo le madonne sono anche abbastanza atelo disegnavo degli okusai dei mirò dei van gogh dei picasso dei monet e la gente apprezzava molto mi sono spostato a praga perché c'è molto più turismo nella grande capitale della repubblica cieca e mi sparavo i miei 150 200 euro al giorno in monetine mica noccioline è arrivata l'idea del furgone insieme a me l'avevano deciso di voler viaggiare ma come non vedevamo il nostro viaggio su un aeroplano un autobus un treno con gli zaini in spalla volevamo qualcosa di comodo e abbiamo sempre pensato che un camper non tanto camper un furgone camperizzato fosse l'idea perfetta perché ha la cucina perché ha l'acqua perché ha la corrente perché possiamo utilizzare i computer perché comunque è un veicolo e una sera davanti all'ostello dove mi ospitavano a praga perché facevo scambio merce ho fatto un video per loro in cambio mi hanno fatto stare un mese in questo stello ho visto questo mezzo parcheggiare che era all'epoca il classico la spaglia california quindi con il tetra soffietto stesso colore originale jamaican blu sono mi sono fiondato come un atleta dopato giù dal proprietario di questo mezzo per chiedere delle informazioni qual era il modello come funzionava eccetera eccetera e lui mi ha detto guarda ho appena avuto un figlio voglio comprare un mezzo più grande questo l'ho messo sul mercato un paio di giorni fa in vendita quanto vuoi 6 mila euro possiamo fare 5 mila no va bene lo compro questa è stata più o meno la conversazione e una settimana dopo dopo tanto lavoro sull'asfalto rovente di praga vencislav square raccimolando tutti i giorni le monetine ci siamo permessi 6 mila euro di camper quella sera stessa ho chiamato me l'ho detto guarda amore hai due ore di tempo per accattare le tue robe e partiamo dove andiamo in bulgaria perché mi avevano chiamato ancora per lavoro per un film italiano e in effetti dopo due ore che è la strada che porta da praga fino a borno nel sud della repubblica cieca lei era pronta con una valigia e una borsa tracolla caricato su abbiamo fatto questa foto e siamo partiti per il nostro viaggio perpetuo che ancora oggi continua quindi questa in una nutshell la storia un po di come abbiamo cominciato a viaggiare non ci abbiamo pensato troppo abbiamo detto vogliamo viaggiare sì come un camper l'abbiamo trovato ci abbiamo avuto anche una botta di culo perché devo dire ad oggi 2022 trovare un Vesfalia 6 mila euro penso che sia quasi impossibile successivamente due anni fa ho detto voglio cambiare motore voglio qualcosa di più e voglio cambiare anche la parte di interni perché non soddisfava le nostre esigenze motore ho messo su la fn che è il classico motore di diesel 1.9 tdi della golf la golf 3 con anche il sistema con il differenziale viscoso quindi 4x4 l'unico problema cominciato l'anno scorso in turchia siamo riusciti a ritornare anche con un cambio in 465,2 pezzi purtroppo forse non è stato stimato e ragionato il fatto di avere un cambio sottodimensionato rispetto al motore afn quindi magari a due ruote motrici sarebbe andato tutto bene ma quattro ruote motrici con tutta la parte di trasmissione le cose non sono andate molto bene oltre a questo abbiamo fatto anche tutta una rivoluzione completa quindi invece del tetto a soffietto c'è il tetto alto rigido il letto è sopra abbiamo creato un letto basculante sotto abbiamo due posizioni di lavoro una bellissima cucina con un piano di olivo bassello che fa una libidine della madonna e soprattutto una doccia calda con un boiler a gas istantaneo da 6 litri che è piazzato fuori dal mezzo dopo ti faccio vedere quest'anno visto le problematiche del motore con il cambio sottodimensionato ho detto guarda vado sul sicuro vado a prendere il motore più classico che la volkswagen abbia fatto il 2.5 tdi sincro quindi già con il suo cambio rapportato chiaramente a quella che la potenza del motore le differenze beh il primo motore la bl aveva 68 cavalli e devo dire quei 68 cavalli erano veramente stanchi non sono riuscito neanche arrivare su alle tracime di lavaredo gli ultimi due chilometri si è impiantato in mezzo alla strada ha detto no io non mi uovo me ne frotto un cazzo che voi siete su ma io non ci vado su bene marcio indietro si è ritornati giù per fortuna mi hanno ridato i soldi per l'entrata al parcheggio in alto dopodiché il motore afn devo dire un motore molto reattivo un motore molto prestante appena gli dai un minimo di gas lo senti che è lì che scalda anzi in prima dovevo stare attento a non sgommare forse un po troppo rispetto a quello che è la nostra tipologia di viaggio noi non ci fiondiamo nelle autostrade no facciamo strade secondarie strade statali viaggiamo il classico slow travel e molto tranquillo è questo nuovo motore devo dire è il più trattore è più masculo lo senti che ha magari un pochino più di fatica in quelle che sono le partenze eccetera eccetera però a 3.000 giri quando entra la coppia di questo motore la senti tutta nel culo cioè proprio ti spinge e ci dà che ti ci dà e è proprio più secondo me è più adatto a quello che è il nostro la nostra tipologia di viaggio sono riuscito anche a provare un pochino qui vicino su ai laghetti la parte 4x4 e questo è il piccolo filmatino con la musichetta che ne è venuto fuori che dici non è male il 4x4? anche se l'ho usato con ancora i vecchi ammortizzatori perché questa è una delle cose che ho cambiato e che sto ancora cambiando infatti ho cambiato quelli anteriori mancano quelli posteriori che li stanno facendo su misura ma ti dico tra pochissimo chi me li sta facendo intanto andiamo a aprire il questo è il 2.5 TDI è stato abbastanza semplice ci sono state veramente pochissime modifiche da fare questo il nuovo motore devo dire sto ancora prendendo un po' la mano rispetto alla guida è abbastanza differente rispetto al motore precedente ma devo dire che non è male è veramente un buon motore che si trova più o meno in tutto il mondo quindi non ha grosse problematiche per quanto riguarda pezzi di ricambio eccetera eccetera una figata che abbiamo messo e che sicuramente ci darà molto conforto molto conforto nei periodi estivi è l'aria condizionata infatti c'era all'interno dell'ambulanza che ho comprato da cui abbiamo cannibalizzato il motore c'era anche per la zona dietro dell'ambulanza solo che è un catafalco enorme che non ci sarebbe stato però aria condizionata davanti seconda modifica a livello meccanico sono gli ammortizzatori tramite consiglio di un amico poi facendo un po' di ricerca sono capitato a Prato alla Oma officina meccanica ammortizzatori più semplici di così una piccola azienda diciamo molto artigianale ma che fa dei prodotti veramente di gamma degli ammortizzatori rinforzati abbiamo pesato il mio mezzo quindi abbiamo visto la portata di ogni asse quelli posteriori li stanno facendo mi chiameranno in questi giorni farò un video anche con loro visto che avrò la possibilità di parlare con dei tecnici per quanto riguarda gli ammortizzatori e le sospensioni chi più di un tecnico può magari dare delle risposte ottimali a chi cerca delle informazioni sugli ammortizzatori siccome ho alzato un ciccinino ancora di più mettendo degli spessori gli ammortizzatori dietro avevano solo mezzo centimetro poi erano a fine corsa parlo di quelli vecchi stanno facendo gli ammortizzatori su misura 5 centimetri più lunghi sempre comunque rinforzati con doppia camera il che vuol dire che all'interno il pistone lavora in una camera separata rispetto a quella esterna quindi anche se si prendono delle botte sulla camera esterna non viene cambiato quello che è il lavoro del pistone ad olio quindi questi sono i due cambi gli upgrade fatti a livello meccanico adesso entriamo dentro ti faccio vedere invece quei due o tre piccoli lavoretti che ho fatto in questi giorni da me per sistemare e rendere ancora più confortevole la zona dietro e sistemare delle cose che purtroppo si erano rotte c'è un po di casino lo so ma è così è work in progress vuoi le cose real e allora ti becchi le cose real che casino c'è veramente qua c'è la scaletta il tavolino allora da dove cominciamo? ah sì cominciamo dal tavolino abbiamo praticamente due tavolini per lavorare solo che abbiamo deciso di ridurre le dimensioni di questo infatti fino a poco tempo fa questo tavolino te lo faccio vedere così era grosso più o meno così non dico il doppio ma quasi risultava un po' troppo ingombrante soprattutto la problematica era che il perno dove è agganciato sulla gamba del tavolo nautico con la pesantezza di questo tavolo andando avanti indietro e continuando a spostare stava facendo praticamente in polvere il perno centrale della gamba del tavolo e quindi abbiamo deciso di ridurre va bene anche per una cena in due non è proprio una cosa minimal e così piccola questo invece è l'altro tavolino come sempre nel vecchio allestimento in ulivo che va praticamente sul mio posto da lavoro quindi giriamo il sedile del passeggero lì c'è un'altra staffa per poter attaccare il tavolo e possiamo avere due postazioni di lavoro comode senza romperci le balle con i nostri computer per le nostre cose e quindi questa è stata la prima il primo lavoretto semplicemente la parte difficile non è stato tanto tagliare il tavolino ma in quanto fare la fresatura laterale per far entrare poi la guaina di gomma siccome non tutti hanno le frese a casa ad esempio io non ce l'ho però questo è il primo upgrade andiamo a vedere il secondo il secondo upgrade riguarda il riscaldamento sotto al mezzo abbiamo il VEBASTO STC 2000 Millennium a diesel praticamente e con ancora l'allestitore quando abbiamo rifatto completamente mezzo due anni fa si diceva beh sì l'aria calda va in alto e quindi quando facciamo il letto arriva anche su l'unico mio dubbio era sì ma con due centimetri di pannello di legno come ti arriva realmente su essendo la bocchetta qui subito dietro il sedile di guida sul dinette è un po' difficile allora ho pensato beh se la montagna non va dal maometto allora facciamo andare no se maometto non va alla montagna vuol dire che non c'è neve no vuol dire che la montagna la facciamo arrivare da momento e quindi mi son detto bene facciamo un sistema per cui posso portare su l'aria calda e l'ho fatto spendendo 12-13 euro ho comprato un innesto per i tubi corrugati il tubo corrugato e dell'isolazione di quella invece per i tubi dell'acqua e ho fatto questo ah è dei fermatubi fermacavi come si chiamano e ho fatto questo lavoro che ti faccio vedere adesso andiamo a vedere sotto alla dinette cosa c'è praticamente eccolo là quello è il tubo del vebasto che arriva direttamente dal sotto al mezzo qui non si vede questa è una ventola per togliere un po' dell'aria calda con tutta questa zona di parte elettronica ho messo un innesto a T ho comprato una nuova bocchetta in modo da avere la possibilità di aprirla e chiuderla e adesso capirai il perché quindi da questo inserto a T chiudendo chiaramente la bocchetta non faccio più uscire l'aria calda qua sotto in diretta ma la faccio uscire da questo tubo corrugato coperto da come vedi isolazione di quella per i tubi dell'acqua arriva su l'ho fatta entrare attraverso l'asse di legno del letto e questo il risultato lo vedi qua un pochino forse nell'angolino adesso vediamo se si riesce c'è questo il tubo che arriva con una specie di caminetto che poi alla fine fa uscire l'aria calda è stato già sperimentato e devo dire tanta roba il primo progetto in realtà era stato diverso avevo preso sempre il tubo corrugato l'avevo fatto correre anche lungo la zona dei piedi fino all'altro lato facendo dei buchi a un tot di distanza l'uno dall'altro il problema che aveva notato che nel primo buco arrivava l'aria calda nel primo buco arrivava l'aria calda mentre alla fine era dell'aria non posso dire che fosse calda questo invece funziona perfettamente perché comunque parliamo di un paio di metri di tubo quindi non deve fare un lungo viaggio basta chiudere la bocchetta giù sotto ho l'aria calda sopra se lascio aperto la bocchetta chiaramente l'aria calda preferisce uscire dal tubo grande rispetto al tubo piccino e ho anche provato a metterla più o meno a metà riesco ad avere aria calda nella parte sotto e aria calda nella parte sopra nel caso io voglio andare a dormire o me voglio andare a dormire avere del riscaldamento sotto e un'altra persona invece rimanga cioè sopra e un'altra persona rimanga invece sotto a lavorare quindi questo è il secondo upgrade aria calda riscaldamento anche nella zona attico pronti per l'ultimo upgrade di Mork 5.0 il piatto doccia e se non hai visto il video te lo metto in descrizione il video di dove ho le giornate d'ottobre il video dove ti faccio vedere come ho creato la doccia avevamo messo un piatto doccia in plastica io ero abbastanza contrario la plastica non è un elemento sì comodissima per tante cose ma non è un elemento che mi piace tanto soprattutto su un mezzo come i camper che hanno tante vibrazioni e infatti si è crepata ma dopo anche una settimana e poi ultimamente era andata veramente a puttade quindi ha voglia star lì a mettere della colla e dei siliconi anche la vetroresina insomma quindi grande decisione ho detto no voglio fare il piatto doccia in inox che era la prima idea che poi ho sempre avuto in modo che lo faccio una volta e non ci penso più sono riuscito non c'è tanta gente che lavora in inox non c'è tanta gente che ha voglia di fare questi lavori ma a Imola ho trovato un'azienda che fa questi lavori tra l'altro il proprietario Gunther è anche un camperista e mi ha fatto questo oggetto questo piatto doccia in inox che devo ancora ultimare devo mettere i bottoni per poter attaccare la doccia il sistema rimane praticamente uguale a quello che avevamo prima abbiamo solo cambiato il piatto doccia però senza avere più quella problematica della plastica che veramente si è un materiale che con il tempo si si consuma si rompe si crepa non è non è veramente un un materiale solide siccome a noi piacciono le cose solide qua adesso ti faccio vedere semplicemente come è stato fatto sono riuscito anche a non incollarlo infatti quello in plastica era stato incollato e per scollarlo ho tirato fuori anche qualche bestemmia in serbo-croato che ogni tanto servono mentre questo ho fatto dei buchi sul bordo poi svasati con la punta del trapano in modo da poterlo avvitare e se dovesse avere in futuro un problema cambiare sistemare delle cose semplicemente svito 8 o una decina di viti e faccio venire fuori il piatto doccia questo è il piatto doccia chiaramente il piano in Ocumè rimane lo stesso e adesso c'è ancora la plastica ancora tutto molto nuovo questo è il come vedi il piatto doccia in inox satinato queste sono appunto le viti che ho messo per bloccarlo al pavimento lo scarico è rimasto sempre da una parte sola l'idea infatti due anni fa era quella di fare uno scarico centrale non non ho portato avanti questa idea adesso semplicemente perché non voglio che Morch diventi più come un nementa svizzero pieno di buchi quindi ho lasciato quel buco semplicemente non abbiamo avuto mai particolari problemi in quanto pendenza del camper eccetera eccetera comunque piatto in inox con sopra la sua base di okume in modo da avere un bel passaggio sono contento sono riuscito a fare tutti questi lavori da soli bestemmiando anche abbastanza però l'ultima cosa che devo fare oggi andrò insieme al mio amico Marco a fare questo lavoro dei piccoli fori per mettere dei rivetti con i bottoni automatici in modo da mettere se non hai visto eccola qua questa è la tela nautica che viene agganciata nella parte in alto ma anche nella parte in basso dentro al piatto doccio in modo da non far uscire l'acqua la figata di questa tenda è che in neanche dieci minuti al sole al vento è completamente asciutta può essere riposta indietro dolce serratina finiamo questo video che è stato anche abbastanza lungo facendo una passeggiata con i due pelosi andiamo giù davanti al ristorante intanto il cancello è chiuso il gestore non si vede il nuovo gestore non si vede da due giorni è sparito chissà dove cavolo sia finito intanto qua vengono giù gli alberi arrivano i pompieri ed è l'armando che si deve occupare della gestione di sto posto bene però non mi paga nessuno spero ti sia piaciuto questo video con i vari upgrade che abbiamo fatto speriamo che sia l'ultima volta che cambiamo motore spero proprio di sì e questo mezzo ci porterà verso nuove avventure come ti ho detto ah no forse non te l'ho detto i piani probabilmente dopo Halloween partiremo il treo l'appuntamento per andare a cambiare gli ammortizzatori e dopodiché magari scendiamo giù in Puglia a Calabria aspettiamo poi magari a Natale torniamo su per festeggiare insieme ai ragazzi del campeggio poi invece gennaio usciamo dall'Italia lasciamo i confini del bel paese per andare a Creta per tre mesi e poi un paio di mesi magari sull'arcipelago delle ciclo questo è tutto per il momento con questo video molto easy molto blando ma ho letto tanti commenti ultimamente sembra che questi video così veri cheap vanno per la maggiore e va bene quindi cameretta piccolina che qualità così un po' da arte povera questo è tutto per questo video ciao un po' un po' Grazie a tutti.